Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You, vado a recensire insieme a voi questi mini adattatori marcati A6ON che servono essenzialmente per collegare dei cavetti con uscita micro usb all'ingresso degli iphone. Sono già andato a tirare fuori i mini adattatori, sono il totale 4, ve li faccio vedere, come vedete c'è l'ingresso micro usb e vanno direttamente nell'ingresso dell'iphone. Li ho già provati precedentemente, ricaricano, funzionano benissimo, sono 4, ho pagato in circa 7 euro, vi lascio il link di amazon in descrizione e la comodità, sono 4 perché vedete uno l'ho già attaccato qua, la comodità è che potete appunto collegare questo tondino, questo gancetto così che avete a disposizione in prossimità questo mini adattatore, andate a toglierlo poi dall'anellino, lo posizionate qua e funziona perfettamente.